il derby d'italia non si gioca solo in campo ma si gioca anche sul calcio mercato perché juve e inter sono in questo momento in lotta quindi tra paratici e marotta c'è questa contesa con su tre nomi specifici che sono rabbio del psg che adesso andrà in scadenza quindi sarà ed è un giocatore molto appetibile non soltanto in italia non soltanto alla juve e all'inter ma anche in premier league e se conosciamo sappiamo benissimo che entrambi entrambe le squadre e entrambi i protagonisti di questo calcio mercato che sia paratici che marotta hanno fatto dei colpi stupendi alla juve proprio parametro zero il secondo giocatore è chiesa del fi della fiorentina lo conosciamo molto bene perché gioca in italia e sta facendo sicuramente molto bene secondo me anche meglio del padre addirittura secondo me perché sta giocando molto bene ed è un giocatore molto giovane appetibile dicono almeno dal suo entourage da quello che si sente dire un po sui vari blog un po sui vari giornali che sia molto più vicino alla juve che all'inter ma conoscendo marotta e la sua facilità di convincere le persone ad andare nella propria squadra non si sa fino alla fine poi dove andrà vedremo e l'ultimo giocatore è van de beck giocatore dell'ajax che abbiamo imparato a conoscere in champions league lo abbiamo visto giocare molto forte però è molto abito anche in premier e anche dal psg stesso quindi forse è quello più difficile da prendere costa 60 milioni quindi non è che costa poco ed è molto giovane forse per la juve è ancora un profilo ancora un po troppo dubbioso forse è un giocatore più da inter vedremo come andrà anche il chiesa sicuramente costerà almeno chiedono almeno 70 milioni per lui quindi non sono pochi vedremo un po come quello che succederà quindi c'è questa lotta tra queste due squadre io vedo sicuramente un rabbio molto più vicino alla juve che ha l'inter perché la juve ha bisogno di un centrocampista proprio in questo ruolo specifico e chiesa più da l'inter anche se sembra dicono tutti che sia vicino alla juve io lo vedo molto più un giocatore da inter che potrebbe giocare molto meglio all'inter poi c'è un'altra cosa è uscito anche il nome di lukaku in queste ultime ore più vicino all'inter vediamo la juve è ancora lì che sta sondando il territorio ma questo giocatore può sostituire secondo me alla grande i cardi che se ne andrà forse proprio alla juve quindi vedi che dove andremo il giro si torna sempre qui in questa lotta in questa contesa tra queste due società tra questi due uomini paratici e marato da un'altra parte quindi secondo voi qual è il nome giusto per il centrocampo e attacco dell'inter meglio chiesa meglio rabbio meglio lukaku chi secondo voi è il nome giusto per l'inter e per la juve mi raccomando lasciate un commento qui sotto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao